Buongiorno cari amici di Radio Londra e bentrovati dal vostro Mirko De Carli. Oggi parliamo della vicenda che è sulla bocca di tutti i mass media nazionali della nave 18. Avete visto la nave della Guardia Costiera attraccata al porto di Catania sulla quale si sono aperti gli strade del dibattito politico nazionale. Come sempre tutte le forze politiche presenti in Parlamento hanno cercato di cavalcare questa vicenda per ottenerne vantaggi profitti in carattere elettorale e quindi abbiamo visto l'ex ministro dell'Agricoltura, attuale segretario del Partito Democratico Martina che dopo aver passato a Genova ho minuti veramente drammatici di silenzio assordante al suo arrivo al funerale di Stato delle vittime del ponte Morandi, è andato per cercare di strappare consenso facile davanti alla nave 18 per dire che le 177 persone presenti su quella nave andavano accolte e che la campagna di Matteo Salvini di blocco dell'arrivo di questi migranti era demagogica, violenta e anticostituzionale. Naturalmente nessuno gli ha dato credibilità a questa sua azione di propaganda che non ha portato alcun consenso a parte democratico, come ha confermato ieri sera la trasmissione in onda il professor Cacciari, il quale ha ben detto con questa tipologia di campagne, con un paese stremato dall'assenza di lavoro, dall'assenza di futuro, dall'assenza di prospettive. Abbiamo un segretario del partito principale di opposizione che si preoccupa di andare a dire che va adatta garanzia di assistenza al 177 migranti, senza dire invece che il problema vero è l'Europa, che non è in grado di gestire e di governare questo processo, non è un caso che venga indetto una riunione straordinaria a livello europeo per una giornata di venerdì prossimo e che non riesca a dire che queste persone provengono da uno Stato, l'Eritrea, per cui il riconoscimento si può fare immediato, come io più volte ho riproposto, e possono tranquillamente essere rimpatriate secondo le procedure del diritto internazionale. Dall'altra parte abbiamo Matteo Salvini, il quale deve subire un attacco vergognoso, l'ho condannato sui social network nella giornata di ieri in maniera netta e forte da parte della magistratura di Catanzaro che interviene dicendo appunto che ha aperto un fascicolo per atto di sequestro nei confronti di sconosciuti e ignoti. È una cosa assurda perché l'unica persona a cui può essere fatto questo attacco per questo fascicolo aperto alla magistratura è il ministro degli interni Matteo Salvini. Io credo che la magistratura non si dovesse infilare in questa vicenda, assolutamente, credo che sia stata tirata per la giacchetta da un certo mondo della politica e quindi che tira sempre per la giacchetta quella parte politicizzata della magistratura. Mi spiace doverlo dire. Mi spiace dover dire che ci sia anche questo scontro istituzionale tra Mattarella e Matteo Salvini perché sappiamo già come è venuto in precedenza che fu il Presidente della Repubblica a intervenire per garantire l'assistenza e l'accoglienza del nostro Paese a un'altra nave in precedenza bloccata dal ministro degli interni. Credo che ora più che mai occorrono fatti. Credo che Salvini, Salvini adesso debba evitare di strumentalizzare anche lui questa vicenda e debba far applicare le leggi. Nel senso che i rimpatri immediati possono essere fatti attraverso riconoscimenti immediati in nave da parte delle forze dell'ordine e della guardia costiera che rispondono naturalmente al ministro, al governo attuale presieduto dal Premier Conte, il quale non deve stare semplicemente su Facebook a parlare ma deve intervenire con forza e chiarezza. Questa posizione va presa in maniera netta. Fatti che possono portare poi l'Europa finalmente ad assumersi quella responsabilità, superando quell'insuccesso dell'attuale governo gialloverde della corresponsabilità volontaria dei Paesi europei per la ripartizione dei migranti, ma che si intervenga come fece Gentiloni, poi non lo portò a termine ed era la vera e unica strada plausibile, ovvero la modifica dei trattati di Dublino e la corresponsabilità obbligatoria con la ripartizione in quote dei migranti che devono essere accolti solamente quelli che sono effettivamente dentro i parametri della possibilità di richiesta d'asilo e quindi per delle condizioni di rifugiati politici, umanitari, chi che siano. Questa è l'unica strada percorribile. Dal vostro Mirko De Carli un caro saluto e sempre in lotta.